E' venuto da qui ma io ero impegnata perché stavo scrivendo il libro perché e voi, molti di voi erano qui. E così è venuto a Parigi, è venuto a Pescara, io sono andata due o tre volte a Firenze. Questa è una pittura che è fuori dalla metodologia del sistema dell'arte. E noi possiamo dividere la pittura in tre parti. Diciamo a livello perché conosce, chiaramente voi tutti non la cederebbe, se dico francese, astrattismo fino al degrado della transfambulare. Bene, Renato Amoroso non fa parte di nessuno di questi tre metodi. Io penso che somiglia molto al mio libro perché. Manipola i colori, li manipola e li mette sulla tela. Non dà assolutamente titolo. Ma voi mi direte, già negli anni settanta c'erano artisti che non davano titolo. Ma questa è un'altra cosa. Perché questa pittura appartiene al sentimento non solo dell'artista, ma di tutti i furitori. e entra a secondo la propria disponibilità più che la propria cultura. Quindi sono i colori dei sentimenti umani che in questo momento storico maggiore. Grazie.